... Ed eccoci giunti! Come ogni giorno d'altronde alla fantastica rubrica del Pisciatore Anonimo. E iniziamo subito con una scandalosa notizia. Un ignobile mostro! Ma vediamo subito il nostro quotidiano. Inoltre a questo fantastico documento, siamo in possesso di un video registrato dal nostro favoloso reporter, che l'ha anche montato addirittura non si sa come, dopo aver sprecato 7 delle sue 42 vite che non si sa bene perché. Cioè, diciamocelo, come fa ad avere 42 vite questo uomo? Beh, comunque, siamo in possesso di questo video. Lanciamolo! Bene, siamo giunti sfortunatamente alla fine della nostra fantastica rubrica. E mi raccomando, anche voi state attenti per i boschi, perché il nostro amico si nasconde dove voi meno ve l'aspettate. Buonasera a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!